Se il regina Margherita di Comiso fosse pienamente operativa e in grado di lavorare bene, tutta la sanità iblea ne trarrebbe vantaggio perché si accorcerebbero notevolmente le liste ad attesa negli altri ospedali. E in sintesi il pensiero del sindaco di Comiso, Peppa Alfano, che in una lunga nota esprime i suoi dubbi sull'attuale gestione della sanità in provincia di Ragusa. Sono convinto, scrive Alfano, che se il regina Margherita fosse operativo esplicando tutte le sue potenzialità, gli altri ospedali, soprattutto Vittorio e Ragusa, sarebbero meno intasati. Secondo Alfano poi, l'attuale organizzazione dei reparti non segue sempre logica ed efficienza. Non è ammissibile in nome di una riorganizzazione e di un'economicità del servizio, scrive Alfano, lasciare al loro posto reparti al di sotto degli standard minimi di operatività solo perché si trovano non a Comiso o Scicli, ma in altre città è invece chiudere divisioni largamente attive che hanno la ventura o la sventura di trovarsi a regina Margherita o al Busacca. Poi Alfano cita il caso di pediatria, un reparto davvero fiore all'occhiello dell'intera sanità eblea, dice non solo è stato smantellato e chiuso, ma ora rischia perfino di non poter svolgere nemmeno l'attività ambulatoriale. Discorso simile per molti altri reparti del nostro comio comisano. Pertanto Alfano annuncia di aver chiesto un incontro al direttore generale dell'Asperragusa coinvolgendo anche il comitato spontaneo a difesa del regina Margherita che ha dato vita domenica mattina ad una grande manifestazione di protesta.